Assessore Cuzzi, tutto pronto per la Notte Bianca, avete rifinito anche gli ultimi dettagli, sarà una grande nottata, il caso di dire, per Pescara, previsti migliaia di visitatori, migliaia di presenze in città, tra l'altro avete anche predisposto un servizio di busnavetta. Sì, mancano poche ore ormai a questo tradizionale appuntamento, arrivato alla terza edizione, la più grande piazza pedonale del divertimento, oltre 80 aree spettacoli, ci sono tantissime manifestazioni importanti di livello nazionale nelle aree concerto, a partire dal tour di Radio Monte Carlo con Mario Biondi, Elodini, Kdenet Fly, poi ci sarà Luca Barbarossa, Giobbe Covatta e Selvaggia Lucarelli, Vincenzo Livieri, e poi ci sono tutta una serie di misure importanti per quanto concerne la viabilità. La riviera verrà chiusa dalle ore 18 del 22 fino alle 6 del mattino del 23 luglio, avremo 28 accessi alla riviera interdetti, ci sono importanti misure di sicurezza, oltre 250 uomini impegnati tra protezione civile, sicurezza privata, polizia municipale, su territori della Croce Rossa e della Misericordia. Abbiamo delle importanti ordinanze, sempre a garantire la sicurezza delle aree spettacolo su tutta la riviera, quindi il divieto di vendita e somministrazione in vetro e in lattina, e poi il divieto del commercio itinerante e ambulante su tutta l'area, importante servizio anche di navetta gratuita che collegherà i principali parcheggi dalle ore 8 alle 4 del mattino. Fare gli eventi non significa solo fare spettacolo, ma significa riattivare tutta una serie di funzioni economiche importanti. Del resto abbiamo fatto uno studio presentato anche all'Università di Venezia, la CAFOSCARI con l'Università di Pescara, che ha stabilito l'aumento dei consumi del 50% durante la notte bianca dell'anno scorso, un trend positivo anche per l'interno della città. Quindi è un dato di fondamentale importanza sostenere attraverso questi eventi l'economia cittadina e l'economia abruzzese che ha bisogno di rilancio anche in vista di quello che è accaduto nei mesi invernali.